Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e nello specifico di emergenza incendi. Villafranca Tirrena, Sant'Agata, Tortorici, Capodorlando, San Pietro Patti, Merì e Milazzo sono le aree in provincia di Messina colpite da incendi nelle ultime ore. Grande lavoro per i vigili del fuoco per contrastare i fronti di fiamma alimentati dal forte vento di Scirocco. Nella notte a Villafranca Tirrena sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni lambite dagli incendi di vegetazione. Sul posto anche un Canadair della flotta aerea del Corpo Nazionale. Potenziato il dispositivo di soccorso locale con il raddoppio dei turni mobilitati i rinforzi dai comandi di Catania, Enna e Siracusa. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Trapani dove in manette è finito un ladro, un giovane ladro, un 19enne sorpreso a rubare vestiti all'interno di un negozio. Vediamo il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato un 19enne trapanese con precedenti di polizia per furto in un esercizio commerciale. I militari dell'arma impegnati in un normale servizio perlustrativo sono stati chiamati a intervenire presso un'attività commerciale della città dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta all'interno del negozio. Giunti sul posto con una dettagliata descrizione del soggetto e degli abiti indossati, gli operanti hanno subito notato la presenza del 19enne intento a lasciare l'attività commerciale guardingo e con passo spedito. Fermato e sottoposto a perquisizione personale sono stati rinvenuti indumenti nuovi etichettati risultati da accertamenti oggetto di furto per un valore di circa 150 euro, motivo per il quale il giovane è stato arrestato. Ladri in azione anche a Palermo sono due in questo caso gli uomini arrestati dai carabinieri. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del comando provinciale di Palermo nell'ambito dei servizi di controllo del territorio hanno arrestato due persone accusate di furto. La stazione Palermo Resuttana Colli ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un trentenne palermitano già noto alle forze dell'ordine, sorpreso mentre si stava impossessando degli oggetti presenti nell'abitacolo di un'autovettura parcheggiata nei pressi di Viale Strasburgo, auto che aveva appena forzato con un grosso cacciavite. Nel quartiere Borgo Nuovo invece, con la stessa accusa, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto un minorenne palermitano e già noto alle forze dell'ordine, il quale stava tentando di rubare un'utilitaria. Il giovane, alla vista dei militari dell'arma, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato inseguito e fermato poche centinaia di metri dopo. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Torniamo a Trapani per parlare di un doppio arresto effettuato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di due ladri che avevano rubato cavi telefonici. Avevano appena tagliato e asportato cavi telefonici in una zona rurale di Via Salemi, i due uomini tratti in arresto dagli agenti della squadra mobile di Trapani. Gli operatori della Polizia di Stato, che da diversi giorni ne seguivano i movimenti, li hanno sorpresi proprio quando, dopo aver caricato su un'utilitaria una grossa matassa di fili appena tagliati dalla linea della Telecom, si accingevano a imboccare la Via Salemi. Nonostante l'intimazione dell'Alt, il conducente del veicolo ha iniziato una folle fuga cercando di distanziare gli equipaggi della squadra mobile, eseguendo pericolosissime manovre e rischiando a più riprese di spingerli fuoristrada. In seguito il guidatore, per eludere il controllo, ha eseguito una brusca virata imboccando una strada di campagna sterrata particolarmente dissestata, sollevando volutamente polvere per guadagnare metri di vantaggio. Entrambi i soggetti, tallonati dalle pattuglie, hanno abbandonato poi la vettura con a bordo la refurtiva, scappando attraverso i vicini campi arati, dove sono stati raggiunti e arrestati dagli agenti con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. A carico dei soggetti è stata inoltre notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Trapani, con l'accusa di furto pluriaggravato per precedenti reati eseguiti in forma seriale su alcune cabine Enel tra il 2 agosto e il 5 ottobre di quest'anno nei comuni di Trapani e Castelvetrano. Gli agenti della squadra mobile, attraverso l'esame dei fotogrammi e delle registrazioni dei sistemi di sorveglianza installati a seguito del ricorrere degli episodi criminosi, erano riusciti infatti a identificarli segnalandoli alla Procura della Repubblica di Trapani al termine di un minuzioso lavoro di ricostruzione degli eventi. Il loro modus operandi si estrinsecava non nel semplice furto di cavi ma nella sottrazione dei quadri elettrici delle cabine nella loro interezza, con ingenti danni sia economici che in termini di disservizio per l'utenza della rete elettrica. Al termine dell'udienza di convalida davanti al GIP, a carico dei due uomini, entrambi di Mazzara del Vallo, sono state applicate le misure cautelari degli arresti domiciliari per l'uno e dell'obbligo di dimora per l'altro. Un quindicenne è stato invece arrestato dai carabinieri a Ragusa. Per lui l'accusa è di detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto un quindicenne ragusano per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'arma di pattuglia avevano notato tre ragazzi che si aggiravano con fare guardingo nei pressi della fermata degli autobus di Piazza Zama. I tre, tenuti costantemente d'occhio dai carabinieri, sono entrati all'interno di un'abitazione per poi uscirne solo in due e dopo pochi minuti. La pattuglia, insospettita dai movimenti, ha quindi proceduto al controllo dei due ragazzi, rinvenendo, indosso a uno di essi, circa 9 grammi di Ashish. Quest'ultimo, sprovvisto di documenti, ha dichiarato di averli dimenticati proprio nell'abitazione da cui era uscito, nella camera di un suo amico di cui però non conosceva il nome. La circostanza, ancora più insolita, ha fatto sì che i militari estendessero il controllo anche all'abitazione. All'interno vi erano una donna e suo figlio di 15 anni. Quest'ultimo, alla vista dei militari, si è diretto in preda al panico in un'altra stanza, cercando di nascondere un piccolo astuccio. Fermato dagli operanti e recuperato il contenitore, che nella concitazione dei fatti era stato nascosto sotto una poltrona, all'interno sono stati rinvenuti due panetti di circa 20 grammi l'uno di Ashish. Controllata poi la camera del 15enne, all'interno della cassettiera sono stati trovati, oltre a quattro coltelli intrisi di stupefacente, diverso materiale per il confezionamento e due dosi di Ashish già confezionate. I carabinieri hanno esteso i controlli anche all'abitazione del padre del 15enne, separato dalla moglie, scoprendo nella camera del ragazzo una growbox per la coltivazione indoor di piante, completa di impianto temporizzato di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, contenente all'interno quattro piante di marijuana della lunghezza di circa 30 centimetri. Inoltre, controllando anche la restante parte della camera del giovane, all'interno dell'armadio sono stati trovati tre barattoli, contenenti in totale circa 70 grammi di marijuana. Il 15enne è stato quindi arrestato e ristretto presso il centro di prima accoglienza di Catania, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Un arresto per spaccio di stupefacenti anche nel Catanese. Si tratta di un 26enne beccato in possesso di cocaina durante un controllo dai carabinieri di Palagonia. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto un 26enne catanese già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'attività di controllo del territorio ha ottenuto un altro importante risultato quando i militari dell'arma hanno proceduto a fermare diversi veicoli lungo la statale 417 Catania Gela. In tale contesto operativo i carabinieri hanno selezionato un'autovettura in transito il cui conducente, nonostante l'intimazione ad arrestare la marcia del veicolo, per sottrarsi al controllo ha invece accelerato repentinamente superando sul lato destro altri due veicoli che lo precedevano, mettendo così in pericolo gli altri utenti della strada. I carabinieri hanno subito inseguito il fuggitivo raggiungendolo sulla statale 417 dopo aver percorso circa due chilometri e riuscendo a fermarlo e identificarlo. Immediate a questo punto le operazioni di perquisizione personale e veicolare che hanno consentito di rinvenire, occultata nel vano portoggetti del Cruscotto, una busta contenente sette involucri di cocaina per un peso complessivo di 185 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il 26enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. che ha convalidato l'arresto e applicato la misura dei domiciliari. Allarme sicurezza a Giardini Naxos per quanto riguarda il torrente Santa Venera. Mauro Romano ha intervistato la vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leotta che lancia un preciso appello all'amministrazione comunale. Sentiamolo. Il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leotta oggi sul torrente Santa Venera per segnalare una problematica che potrebbe investire tutta la città. Di che cosa si tratta Presidente? Allora noi oggi vogliamo parlare di sicurezza. Io e il consigliere Fichera già il mese scorso abbiamo depositato un'interrogazione sulla situazione della sicurezza dei torrenti che verrà discussa il 30 di ottobre. Quindi già molto tempo prima, perché questa è un'attività che si deve programmare prima dell'arrivo della stagione invernale, avevamo segnalato che la situazione era fuori controllo ed era molto pericolosa. Infatti come potete vedere alle mie spalle la vegetazione sull'alveo del torrente Santa Venera è proliferata in maniera incredibile. Ora noi vogliamo lanciare un appello all'amministrazione affinché si intervenga con grande celerità perché la stagione delle piogge si sta avvicinando e non si può semplicemente liquidare la situazione come ha fatto recentemente l'assessore Croce dicendo che è stato scritto all'autorità di Bacino e si aspettano delle convenzioni o dei trasferimenti di somme. L'anno scorso già all'inizio di novembre gli alvei dei torrenti principali erano già stati puliti, quindi qui non c'era niente, alle mie spalle non c'era niente. Ci troviamo invece quasi alla fine di ottobre in una situazione di incredibile pericolosità, per cui il suggerimento che vogliamo lanciare all'amministrazione è di non attendere oltre perché se noi dovessimo attendere le convenzioni, i trasferimenti di denari, gli affidamenti alle ditte qua arriviamo a dicembre, intervengano immediatamente ed addebitino poi i costi alla competente autorità di Bacino. Prima assemblea regionale a Taormina all'Istituto Pugliatti di Renaia, ovvero la rete nazionale degli istituti alberghieri. Ce ne parla Mauro Romano. Il presidente di Renaia Luigi Valentini è il dirigente dell'Istituto Pugliatti di Taormina Luigi Napoli. Oggi è un appuntamento importante che si sta svolgendo all'Istituto. Di che cosa si tratta Valentini? Beh, innanzitutto spieghiamo un attimino cosa è Renaia. È la rete nazionale degli istituti alberghieri ed è una rete importante direi perché aderiscono più di 230 soci che appartengono a tutte le regioni italiane. Abbiamo tutte le regioni italiane rappresentate. Di cosa si tratta? Ecco, in Sicilia forse questa volta è stata un giorno memorabile nel senso che è la prima da quello che mi hanno detto, la prima riunione dell'assemblea Renaia della regione Sicilia. Io sono stato invitato per questa occasione e sono onorato di essere qui. Dirigente Napoli, il tema di questo incontro, un tema molto importante che sta andando per la maggiore e che rappresenta quel qui di in più che ha l'Istituto Pugliatti. Ma è qui di in più grazie intanto per l'intuizione che speriamo che poi si possa tramontare presto in realtà. Come diceva il Presidente, gli istituti alberghieri, i professionisti alberghieri e l'astronomia sono riuniti in rete nazionale, in questo caso abbiamo qui l'assemblea regionale e il tema che è stato scelto da me insieme ovviamente al Presidente Valentini e con il beneplacito del Presidente Valentini e del delegato regionale, il professore Vito Pecoraro, e la cucina responsabile, la lotta agli sprechi, il riutilizzo delle materie diciamo appunto alimentari come ad esempio l'essiccazione, faccio un esempio di bucce o di prodotti che poi possono essere riutilizzati in altra forma per non buttare nulla. E quindi diciamo un occhio, un'attenzione al risparmio energetico e al ritorno ai gusti semplici, ai sapori semplici che poi sono una caratteristica fondamentale della nostra isola e della nostra Italia, del nostro paese, visto che la nostra è una nazione con elevatissimo tasso di biodiversità, quindi Renai ha pensato di volere dedicare una serie di incontri alla lotta agli sprechi e alla cucina sostenibile o responsabile. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.